buongiorno a tutti oggi scopriremo insieme qual è il modo migliore per cuocere i croissants della linea le delizie di banque d'or una straordinaria unione di tradizione italiana e identità francese il primo passaggio è per riscaldare il forno a circa 250 gradi perché si crei il giusto ambiente di cottura il consiglio utilizzate un forno ventilato all'interno del cartone troverete due pratici sacchetti con le principali informazioni di servizio nome del prodotto lotto di produzione e data di scadenza utili per un pratico stoccaggio e risparmio di spazio freddo potrete infatti conservarli nel vostro possetto senza il cartone posizioniamo ora in teglia 6 massimo 8 croissants in maniera obliqua e con la chiave di chiusura in direzione opposta alla ventola manteniamo tra l'uno e l'altro il giusto spazio per far circolare aria calda e garantire così il giusto sviluppo e una cottura omogenea informiamo la temperatura consigliata è di 165 175 gradi per circa 20 23 minuti tempi e temperatura possono variare a seconda del forno utilizzato è possibile cuocere insieme croissants vuoti e farciti tempi e temperatura non cambiano una volta sfornati lasciamo raffreddare i nostri prodotti prima di manipolarli e posizionarli in vetrina ricordate il croissant vuoto della linea le delizie di banche d'or ha un gusto bilanciato potrà quindi essere gustato neutro o farcito in versione dolce o salata a voi la scelta grazie di essere stati con noi e a presto